Usha Namaskara e il saluto all'alba è una meravigliosa pratica che eseguita la mattina ti porta in sintonia con un'energia positiva e luminosa che ti accompagnerà per tutto il resto della giornata. Inoltre rafforza l'equilibrio di corpo e mente, espande la capacità respiratoria, migliora la concentrazione e ti riporta nel tuo centro. Avvicina i piedi e le gambe, unisci i palmi delle mani davanti al cuore, chiudi gli occhi, senti il respiro diventare lento e profondo e attraversare il tuo corpo dalla terra al cielo, dal cielo alla terra. Anche se gli occhi sono chiusi, senti la presenza del sole e la sua particolare energia in questo preciso momento dell'anno e del giorno. Senti la corrispondenza che c'è tra il sole e il tuo cuore, il centro nell'universo del tuo corpo, centro dal quale partire e al quale sempre ritornare. Grazie.